Tragedia nel pomeriggio di giovedì a Delia, dove un pensionato di 76 anni, Giuseppe Leone, è morto mentre stava bruciando alcune sterpaglie in un terreno di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha accusato un malore mentre stava dando fuoco alle sterpaglie e si è accasciato al suolo, venendo successivamente toccato dalle fiamme. È stata la moglie ad allertare i carabinieri nel tardo pomeriggio, non vedendo tornare il marito. I militari dell'arma si sono recati nel podere di proprietà della vittima alle porte di Delia hanno scoperto il cadavere. La procura nissena ha disposto il sequestro della salma come atto dovuto per stabilire con precisione le cause del decesso.